Con Mr. Squillantini direttamente da Santa Firmina, ci eravamo lasciati insomma nel giorno della presentazione alla squadra, prima volta ad Arezzo in questo caso per Mr. Squillantini. Intanto come sta procedendo la tabella di marcia della preparazione precampionato? Abbiamo fatto una buona fase di preparazione, abbiamo iniziato il 19 agosto, poi alternando gli allenamenti amichevoli. Abbiamo allenato praticamente tutti i giorni, tolto lo stop del weekend del Saracino. I ragazzi stanno rispondendo bene, il numero è sempre elevato alle presenze, quindi per ora sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo lavorato seriamente, ci stiamo preparando con giudizio a questo inizio di stagione. Adesso è il primo banco di prova ufficiale, c'è la Coppa, sono tante squadre ovviamente che la utilizzano proprio come test precampionato per aggiustare i primi movimenti. C'è subito questo derby con l'Arezzo Football Academy, la squadra sente un po' l'atmosfera che si sta avvicinando alle partite ufficiali. Sì, sicuramente adesso iniziano le partite vere, quelle da tre punti, quindi diciamo che l'entusiasmo sta salendo vortiginosamente. È chiaro che qui ce ne saranno tanti di scontri con le aretine, partiamo con l'Arezzo Football Academy, ma insomma anche il girone è pieno zeppo di derby, quindi vediamo cosa riusciamo a fare in questa partenza e considerando anche che all'inizio del campionato affronteremo subito il vice omaggio e la Tuscar, quindi altre due squadre della zona. E proprio sul girone volevo chiedere che cosa ne pensa, visto che il Santa Firmina lascia il girone N, quello con Senesi e Cortonesi, la Valdichiana, per intraprendere questo cammino che insomma torna in zone come Casentino e soprattutto l'Aretino? Sì, è stata un po' una sorpresa, tra virgolette, perché comunque il Santa Firmina era sempre stato inserito nel girone N e quindi passare all'L con il Casentino Valdardo, come dicevi tu, insieme a tutte le altre aretine, è stata un po' una cosa inaspettata, comunque ci faremo trovare i punti. Chiaro che il girone è competitivo, ci sono tante formazioni che partono per far bene e noi cercheremo di difenderci al meglio in ogni partita. Abbiamo incontrato Vittorio Brilli che ha fatto insomma un po' il suo pronostico sul girone N, ne approfittiamo per il girone N, quali sono secondo lei le squadre più attrezzate comunque che partono per dare battaglia per i piani alti? Ma io direi sicuramente le tre che l'anno scorso hanno fatto i play-off, quindi Vicio Maggio, Battifoglio e Lo Stia e poi direi anche le squadre che vengono dalla prima, quindi l'Arezzo Football Academy e l'Ormoponte. Secondo me queste sono le squadre che partono un attimino con un piede davanti agli altri, sicuramente sulla carta, anche se poi dopo bisogna vedere sul campo, la più attrezzata per il mercato condotto sembra essere il Vicio Maggio di Mister Bracciari. Grazie.